In questi ultimi giorni l'amministrazione ritorna a parlare di PUC, con circa sette anni di ritardo rispetto alle promesse da campagna elettorale. Questo il commento del segretario cittadino del PD Matteo Ted, che ha inviato un'interrogazione al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale. Il PUC avrà il compito di stabilire i criteri di crescita della nostra comunità, afferma Ted, il livello di servizi da offrire a residenti e non, la tipologia di relazioni che dovranno disciplinare i rapporti tra le varie anime della nostra città.